La scuola materna La struttura dispone di tre aule, una sala mensa, un parco giochi e un teatrino Tre educatori e quattro ausiliari seguono ogni anno circa 90 bambini Ad Assemini abbiamo anche un'altra scuola materna privata denominata l'Arcobaleno Si trova qui in via Toscana numero 10 È iniziato la sua attività nel 1990 Dal 1995 è gestita dalla cooperativa Infanzia Terza Età Attualmente vi frequentano 37 bambini Seguiti da due insegnanti, due assistenti e dal personale ausiliario In via Calabria troviamo la scuola materna del Sacro Cuore Istituita nel 1968 dagli ancelle del Sacro Cuore La scuola annualmente viene frequentata da circa 200 bambini Lo staff è composto da cinque educatori e quattro collaboratori La struttura di Fone, di un parco giochi all'aperto e di un piccolo teatrino Qui al numero 94 della via Sacco troviamo l'unico asilo nido pubblico di Assemini È un asilo nido comunale ed è stato inaugurato nel 2003 In sostituzione della vecchia serie di via Cariffe o in ristrutturazione Purtroppo i posti disponibili sono solo 42, pochissimi per una cittadina di 25.000 abitanti Possono frequentarlo i bambini dei 18 mesi ai 3 anni Questa struttura dispone di mensa, palestra e giardino con uno staff di 13 educatrici